Cosa può portare un portiere d'esperienza come Mirante alla Roma? Penso che tanto, no? Lui ha fatto un percorso benissimo nel calcio italiano e noi cercamo con lui un portiere che trasmitta fiducia, anche la sua qualità. Per questo siamo contenti e anche convinti che abbiamo fatto una bella scelta. Rappresenta un punto d'arrivo importante per me, ma anche un'ambizione e un confronto con una squadra importante. Ho fatto il settore giovanile in una squadra importante, ma ci arrivo ad un'età matura, quindi per me è motivo di grande soddisfazione, ma allo stesso tempo è anche un motivo di grande voglia di lavorare, perché comunque devo confrontarmi con un valore superiore a quello che ho fatto fino adesso e quindi sta a me dimostrare di valere questa società e questa squadra. No, la cosa che mi ha colpito sicuramente è la mentalità di questa squadra, nel complesso. È una squadra che va forte, ha avuto subito un grande atteggiamento, un grande impatto. Nessuno si risparmia e soprattutto, se parliamo dei singoli, credo che nei giovani ci sia tanta qualità. Quindi da questo punto di vista la Roma penso abbia lavorato benissimo, anche in prospettiva. Ha tanta qualità e tanto margine di miglioramento, soprattutto in quei ragazzi giovani che sono stati presi, ma che sono pronti fin da subito e questo forse che impressiona che questi ragazzi, rispetto forse alla mia generazione a livello mentale, sono un passo avanti e quindi riescono già ad essere competitivi ad alti livelli.